ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi mostrerò la posizione delle case nelle quali dovrete entrare per completare la sfida le case sono a pantano palpitante ci sono diverse posizioni per quanto riguarda le case e ve le mostrerò diciamo prima dalla mappa e poi personalmente ora le case sono queste vedete c'è un gruppo di case qui qui ce ne sono altre vedete qui ce ne sono altre e poi ce ne sono altre diciamo disseminate da queste parti se volete completare la sfida potete atterrare qui dove ci sono un bel po di case quindi qui dovreste completare diciamo l'incarico velocemente altrimenti poi potete recarvi in questa zona qui vedete è pantano palpitante tutta questa zona quindi avete la possibilità di completare l'incarico o atterrando qui e visitando queste case oppure queste case detto questo vediamole insieme anche a voi sembra tutto pronto per il volo o o o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.